Ora ci è successa una cosa gravissima, nessuno ha indovinato questa pietra miliare della storia dei videogiochi, ma come è possibile? Però con le risposte a caso mi avete fatto morire e premio il bellissimo botte da orti di Andrea, però in tanti mi avete fatto morire dalle risate, giuro. Però attenzione, se qua nessuno scrive il titolo corretto non si va avanti, riproviamoci, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, mi raccomando, sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi molto presto e disponibile anche in forma liquida. Quella di oggi sarà una puntata caldissima e ovviamente anche ricchissima. Andremo a vedere tutti gli aggiornamenti completamente a caso proposti da Nintendo e ci sono ben tre novità sensazionali, più o meno. E poi commenteremo anche un nuovo rumor riguardante il potenziale seguito di un gioco di cui in un certo senso abbiamo parlato ieri. Prima di iniziare però vi invito a smetterla di fare aperitivo e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate qua sotto in descrizione. Bene, ho detto tutto, sembro anche arrabbiato, senza motivo. Iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Ormai in quello che potremmo definire un continuo botta e risposta tra i leaker, Naughty Dog e TG Poro, ci sono degli aggiornamenti riguardanti il remake di The Last of Us parte 1. Drakman ha infatti guardato la puntata di ieri dove parlavamo dei leak e ha deciso di pubblicare un trailer di ben 10 minuti. Nel filmato vengono mostrate tutte le feature che andranno ad arricchire l'esperienza base di The Last of Us e un po' i sospetti che erano immersi dai leak sono stati confermati. Abbiamo una vasta gamma di miglioramenti grafici e con il commento degli sviluppatori che accompagna le immagini è molto più semplice individuare tutto il lavoro bello corposo che c'è dietro questa nuova veste grafica. La tecnologia dietro le animazioni calcolate in tempo reale è notevole e poi a me l'integrazione del tavolo da lavoro fa impazzire. Straapprezzate anche le opzioni di accessibilità, quello che manca però, almeno per ora, è una vera rimessa a lucido del gameplay, visto che mancano tante delle feature che rendevano le fasi di combattimento del secondo episodio nettamente più gratificanti rispetto al suo predecessore. Probabilmente inserire elementi come la schivata e movimenti e interazioni avanzate con l'ambiente avrebbe significato dover riscrivere da zero tutti gli ambienti di gioco. Ma in fondo non era proprio questo il modo in cui avevano presentato il remake. Insomma, l'utenza ha reagito in maniera abbastanza freddina e c'è chi continua a sostenere che un trattamento del genere avrebbe giovato molto di più al primo Uncharted, un titolo che accusa enormemente il passaggio degli anni, mentre il primo The Last of Us, tutto sommato, è ancora oggi godibilissimo. Non trovate? Un po' come Nintendo, anche Capcom non se ne sta certo con le mani in mano e oggi ha deciso di condividere un trailer relativo alla Gold Edition di Resident Evil 8, che uscirà il prossimo 28 ottobre, lo stesso giorno di Bayonetta. Dannazione! I tre principali contenuti aggiuntivi, che potranno essere acquistati separatamente dalla Gold Edition nel Winter's Expansion, sono la storia aggiuntiva incentrata su Rose, la possibilità di rigiocare la storia in una modalità terza persona, più in linea con gli episodi storici della serie, e anche un aggiornamento della modalità mercenari, su cui si concentra quest'ultimo trailer, un'espansione che permetterà di vestire i panni dei villain di Resident Evil 8, tra cui ovviamente c'è anche Lady Dimitrescu. Vi potete immaginare quanto i fan siano emozionati e impazienti di provare i DLC, sembra veramente tanta roba. E visto che abbiamo menzionato la strega di Umbra, è già partita la caccia, ma alla Collector's Edition di Bayonetta 3. Oggi sono riuscito a segnalarvi nel gruppo Telegram delle offerte poracce la disponibilità sul sito di Multiplayer.it, ma su Amazon i pre-order ieri sono durati così poco che sono spariti in un batter d'occhio. Ci saranno sicuramente altri restock, quindi non fatevi prendere dal panico e non date la vinta agli scalper. Tra l'altro la Collector's non è neanche così impressionante e secondo me si rivolge principalmente ai super fan della serie. Certo, molto meglio della Limited di Bayonetta 1 e 2, però ne ho viste sicuramente di migliori. Voi proverete a prenderla? Bene poracci, passiamo alle notizie del giorno e bisogna chiudere con non uno, non due, ma ben tre annunci random da parte di Nintendo. Che ormai è ufficialmente entrata in modalità sopravvivenza per tutta l'estate e conta di tirare avanti fino a settembre a forza di micro reveal e annunci a sorpresa. Il primo dei tre annuncioni, se così possiamo dire, già lo conoscevamo e da oggi è disponibile al download il primo DLC completamente gratuito di Mario Strikers Battle League Football. Più che un DLC sembra più una lettera di scuse da parte di Nintendo che cerca di riparare a un lancio abbastanza scarno, aggiungendo uno dei personaggi più richiesti a gran voce da tutta quanta la fanbase. Con Daisy arriva anche tipo timido, un nuovo stadio e un nuovo set di equipaggiamento. Speriamo solo che i prossimi update siano ancora più consistenti e magari introducano qualche modalità aggiuntiva. E rimanendo nell'ambito degli sportivi carenti di contenuti al lancio, dobbiamo parlare di sua maestà Nintendo Switch Sports. Se il roster risicato di Battle League e le poche modalità online vi hanno messo tristezza, beh, Switch Sports è ancora peggio, se possibile. Quindi mentre aspettiamo che venga aggiunto il Golf come nuovo sport, nel mentre Nintendo ha annunciato proprio oggi che a partire dal 27 di questo mese ci sarà il prossimo aggiornamento gratuito di Nintendo Switch Sports che introdurrà il supporto alla fascia da gamba per le partite di calcio e non solo per la modalità rigori, nuove mosse nella palla a volo e altro ancora. Cioè, mi immagino qualche altro costume fiorri. Però attenzione, non trovate un po' particolare annunciare questo DLC per un mercoledì? Che Nintendo si stia tenendo uno spazietto per dedicare venerdì prossimo interamente all'arrivo della seconda parte del DLC di Mario Kart? Non contenta di questo, comunque, la grande N ha pubblicato a sorpresa tre nuovi giochi per le app NES e SNES dell'NSO. E insomma, di sicuro, non è il migliore dei mesi. I tre titoli sono Diva Story 6 per NES e poi Fighters History e Kirby's Avalanche per Super Nintendo. Avete presente, no, quando vi dicevo che siamo entrati in modalità risparmio energetico? Beh, Diva Story 6 è un gioco mai uscito all'infuori dal Giappone che probabilmente neanche gli sviluppatori hanno mai giocato. Uno dei titoli più oscuri e sconosciuti da tirare fuori dal catalogo del NES. Fighter Story è invece un clonazzo spudorato di Street Fighter 2, così tanto che quando il gioco fu pubblicato durante i primi anni 90, Capcom fece causa Data East per plagio. Incredibile, ma vero, riuscì anche a perdere. Storia diversa invece per Kirby Avalanche, visto che si tratta di un puzzle game alla Puyo Puyo. Cioè no, è proprio Super Puyo Puyo, rischinnato con le ambientazioni e i personaggi di Kirby, nella speranza che il titolo potesse diventare appetibile per il pubblico occidentale. E per quanto sia una parte importante della storia del personaggio Nintendo, dire che ultimamente Nintendo si è un po' lasciata prendere la mano con i puzzle game è riduttivo. Interessante invece che in Giappone sia stato pubblicato Kirby Star Stacker, al posto di Avalanche. Questo è un remake esclusivo per il Giappone di un titolo uscito originariamente per Game Boy in tutto il mondo, e si tratta del primo puzzle game di Kirby a non essere basato su puzzle game già esistenti. E così facendo, tra l'altro, tutti i titoli NES, SNES e Nintendo 64 con protagonista Kirby sono disponibili sull'NSO. E ora, dopo questa affermazione, aspetto gli ultra fan di Kirby pronti a smentirmi nei commenti. Comunque poracci che siate d'accordo o meno con le scelte di Nintendo, qui si continua senza sosta a concatenare annunci settimana dopo settimana, solo che, tra alti, molto alti, come l'altissimo Bayonetta 3, ci sono giornate come questa che vanno avanti a suon di pasce per le gambe e il retro gaming di nicchia. Quindi siamo veramente sicuri che questi continui rilanci siano effettivamente meglio di un Nintendo Direct vecchio stile? Ebbene, chiudiamo questa puntata un po' particolare con un rumor che è una vera bomba. Jeff Grabb ha iniziato a parlare di un seguito di un titolo di cui ieri me ne sono completamente dimenticato. Ora vi spiego. In modo leggermente provocatorio, ieri vi ho chiesto se effettivamente Ubisoft avesse fatto qualcosa di buono negli ultimi 5-10 anni, in un momento in cui a me non veniva in mente proprio niente, se non Breakpoint, una serie infinita di Assassin's Creed e Far Cry tutti uguali tra di loro, progetti potenzialmente interessanti, ma nati morti come Hyperscape e Riders Republic, e ovviamente le grandi sparizioni di progetti ambiziosi come Beyond Good and Evil 2. Ovviamente le cose degne di nota ci sono state e tra queste mi sono dimenticato di citare uno dei titoli che più mi ha colpito in positivo degli ultimi anni, ovvero Immortals Fenyx Rising, e giustamente me lo avete fatto notare nei commenti. A questo punto, per fortuna, il buon Jeff Grabb, piuttosto che lasciare un commento negativo con tanto di non mi piace, ha fatto sapere al suo pubblico che, a quanto pare, Ubisoft starebbe lavorando a un nuovo gioco di Immortals Fenyx Rising. Dico un nuovo gioco e non seguito perché si tratterebbe in realtà di uno spin-off che abbandonerà l'ambientazione della mitologia greca in favore di quella hawaiana-polinesiana. Con il nome in codice di Oxygen, il progetto punterebbe a ripercorrere i passi del primo Immortals, emancipandosi però dalla palesi ispirazione del primo capitolo a Breath of the Wild, principalmente adottando uno stile grafico completamente diverso. Purtroppo il titolo, in lavorazione sempre presso gli studi di Ubisoft Quebec, sarebbe ancora nelle fasi di preproduzione e ad ora ne esisterebbero solo alcune concept art e l'uscita, indicativamente, è prevista per un lontanissimo 2025. Poracci dai, sono curioso di sapere la vostra. Vi piacerebbe vedere un nuovo Immortals, questa volta però lontano, sia dal primo capitolo che da Breath of the Wild? Soprattutto avete apprezzato Immortals Fenyx Rising? E questo poracci era tutto per oggi ma anche per il weekend. Io vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno e non mi resta che darvi appuntamento al lunedì con un nuovo video. Voi, mi raccomando, questo weekend sapete cosa fare. Riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Por Random, Michele Rising, ciao! Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ciao anche! P Bubba Mambo Musica 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 o